ciao a tutti continuando con trapcode particola oggi vedremo che è possibile far nascere le particelle da una luce di after effects e questa cosa è molto utile come vedremo per creare delle scie animate si può usare qualsiasi tipo di luce ma prevalentemente si usano o la luce point o la luce spot se non è necessario dare una direzione alle particelle allora va bene anche una semplice luce point se invece le si vuole indirizzare in una particolare direzione allora bisogna per forza usare la luce spot benissimo incominciamo con una luce semplice di tipo point quindi andiamo nel menu layer new light e qua impostiamo come tipo di luce appunto point e diamo l'ok come vedete ho già resettato di nuovo particular per cui ci troviamo nella situazione di default in cui le particelle nascono da un punto al centro dell'inquadratura ma se vogliamo invece che nascono da dove si trova la luce cioè da qui allora andiamo nella sezione emitter e in emitter type anziché point scegliamo appunto lights come vedete immediatamente si apre una finestra di avvertimento che ci avvisa che se vogliamo usare una luce come emitter questa luce deve essere tassativamente nominata emitter e maiuscola e maiuscola altrimenti non funziona appunto come emitter quindi diamo l'ok selezioniamo la luce e la rinominiamo appunto e maiuscola emitter come vedete adesso immediatamente le particelle nascono nella zona dove si trova la luce ovviamente è possibile cambiare il nome la luce non è obbligatorio che si chiamino emitter e per farlo basta cliccare su questo pulsante choose names e impostare qui il nome che si vuole benissimo in questo caso lasciamo pure emitter e diamo l'ok quindi come dicevamo le particelle ora nascono dove si trova la luce e per vederlo ancora meglio direi di aumentare il numero di particelle quindi anziché 100 facciamo circa 600 e così è ancora più chiaro il fatto che le particelle non nascono tutte esattamente nella posizione della luce ma in un box intorno alla luce e la dimensione di questo box da cui nascono le particelle lo si gestisce naturalmente con il parametro emitter size che si trova qua sotto che al momento come vedete impostato a 500 quindi se noi lo aumentiamo o lo diminuiamo diminuisce aumenta lo spazio intorno alla luce dal quale nascono le particelle e se noi lo azzeriamo del tutto allora tutte quante le particelle nascono proprio come si vede dal punto in cui si trova la luce bene lasciamo pure il valore a zero a questo punto da questo momento in poi valgono tutte le cose che già sappiamo sulle particelle l'unica cosa sulla quale bisogna stare attenti è la direzione che si vuole dare alle particelle al momento sappiamo che le particelle vanno ognuno in una direzione diversa nello spazio perché il parametro direction è impostato su uniform se noi volessimo indirizzare da qualche parte dobbiamo impostare il parametro su directional proviamo come vedete non è cambiato nulla di nuovo le particelle vanno in tutte le direzioni e questo dipende dal fatto che stiamo usando una luce point che appunto non è direzionabile se invece noi vogliamo indirizzare le particelle in una direzione precisa dobbiamo usare una luce spot perché appunto a differenza di quella point è indirizzabile nello spazio benissimo proviamo per modificare questa luce che abbiamo ci facciamo doppio clic sopra in modo che si apra la finestra dei suoi settings e dal light type la modifichiamo in spot benissimo diamo l'ok come vedete immediatamente le particelle hanno la direzione del cono di luce se noi vogliamo indirizzare le particelle altrove dobbiamo agire proprio direttamente sulla luce possiamo farlo spostando il suo punto di interesse in un altro punto dello spazio oppure direttamente possiamo agire sulla rotazione della luce con la rotazione x le indirizziamo verso l'alto o verso il basso con la y a destra e a sinistra e con la z le ruotiamo su se stesse in questo modo qua e se aumentiamo un poco la velocità di partenza delle particelle per esempio di questa quantità qua notiamo meglio che le particelle si distribuiscono intorno alla direzione data sparpagliandosi con una certa angolazione di solito l'ampiezza di questa distribuzione si gestiva con il parametro direction spread che al momento vedete che è grigio e quindi non è disponibile mentre ora la si gestisce direttamente con l'angolo del cono della luce per cui se mettiamo in evidenza nella timeline le proprietà della luce le light options e agiamo su con angle che è appunto l'angolo del cono di luce vedete che aumentandolo diminuendolo noi aumentiamo l'angolo di distribuzione delle particelle intorno alla loro direzione quello che prima controllavamo appunto con il parametro spread bene dunque perché la luce come luogo di emissione delle particelle è utile diciamo che la luce diventa particolarmente utile quando si vuole animare limiterne lo spazio per creare delle scie di particelle e questo perché come tra un attimo vedremo con la luce è ben visibile il tracciato di movimento ed è quindi semplice variarne la direzione con le maniglie di bezier per capirlo meglio appunto facciamo subito un esempio e animiamo la posizione della luce nello spazio andiamo col cursore al tempo zero mettiamo in evidenza la posizione e spostiamo la luce per esempio più in basso fuori dall'inquadratura e un po più a sinistra più o meno in questa zona qui accendiamo l'orologio di position avanziamo nella timeline per esempio un paio di secondi e spostiamo la luce da un'altra parte magari un po più a destra un po più avanti nello spazio e magari un poco più in alto tipo qua perfetto poi magari creiamo una terza posizione quindi avanziamo ancora un paio di secondi spostiamo questa volta la luce a sinistra magari più avanti ancora nello spazio più o meno qui e la mettiamo in alto fuori dall'inquadratura circa qui e magari con le maniglie di bezier correggiamo un po il tracciato di movimento per esempio le maniglie del secondo punto le potremmo ruotare in modo che il tracciato di movimento faccia una curva più o meno così le possiamo aggiustare anche negli altri monitor così e direi anche di aggiustare un poco le maniglie del punto di partenza in questo modo qui e anche di quella del punto d'arrivo più o meno così quindi grazie al tracciato di movimento ben visibile nei vari monito è semplice far viaggiare l'emitter in qualsiasi posizione dello spazio però in questo esempio si nota una cosa un po particolare cioè che le particelle vengono sempre sparate verso il centro della scena e questo succede perché il punto di interesse della luce è fisso qui al centro dell'inquadratura e quindi le particelle vengono sparate in quella direzione in questo caso quindi sarebbe magari un po più utile che la luce fosse indirizzata sempre nella direzione del tracciato e per far questo è molto semplice perché basta attivare alla luce la funzione di auto orientamento che in after effects è disponibile per qualsiasi livello per farlo lo sappiamo basta selezionare il livello andare nel menu layer transform auto orient e nella finestra di auto orientation attivare orient along path cioè l'orientamento automatico lungo il tracciato di movimento diamo l'ok a questo punto come vedete il cono di luce ha sempre la direzione del tracciato di movimento e quindi le particelle sono sparate sempre in quella direzione lì però se vogliamo creare una scia un po più credibile naturalmente possiamo innanzitutto stringere l'angolo del cono della luce in modo che le particelle non si sparpaglino quindi torniamo ai parametri della luce e azzeriamo l'angolo del cono di luce e per far sì che le particelle non vengano sparate lontano nello spazio possiamo anche annullare la velocità di partenza delle particelle per cui in emitter azzeriamo la velocità così facendo le particelle rimangono nel luogo di nascita cioè lungo il tracciato di movimento però in realtà se ben guardiamo le particelle si discostano dal tracciato ancora un po soprattutto questo lo si nota bene lungo le curve più strette vedete qua che le particelle si allontanano dal tracciato di movimento della luce e questo è dovuto ad un altro parametro di particolar che è velocity from motion che trasmette alle particelle un po della velocità dell'emitter in questo momento come vedete è impostato a 20 e questo significa che le particelle ricevono il 20 per cento della velocità originale della luce ma se noi lo azzeriamo del tutto allora le particelle non avranno più nessun tipo di velocità e quindi adesso finalmente le particelle rimangono esattamente distribuite lungo il tracciato di movimento della luce ecco qua bene in questo momento abbiamo una scia molto semplice praticamente è una linea bianca che viene disegnata sul percorso che fa la luce vediamo di migliorarla un po magari al posto di semplici sfere usiamo una particella un po più elaborata in questo caso io userò come particella questo elemento qui che ho già preparato che si chiama cerchi naturalmente se anche voi volete usarlo potete scaricarlo dal link che trovate nella stessa pagina del tutorial quindi come sappiamo se vogliamo usare questo elemento come particella dobbiamo prenderlo aggiungerlo nella timeline e come vedete si tratta semplicemente di un gruppo di cerchi di diversa larghezza bene come sappiamo la particella originale deve essere presente nella timeline ma spenta quindi spegniamo l'occhiolino qui a sinistra e poi in particular dobbiamo andare nella sezione particle e al parametro particle type usare l'opzione sprite in questo caso particolare però scelgo sprite fill perché mi permette poi anche di ricolorare la particella del colore che voglio quindi sprite fill poi più in basso nella sezione texture nell'elenco qui dei livelli disponibili scelgo cerchi quindi abbiamo di nuovo una scia però come vedete le particelle sono un po troppo piccole per cui direi di aumentare un po la size in questo caso direi intorno ai 100 perfetto quindi in questo caso si distinguono bene i vari cerchi e ognuno di questi cerchi lascia dietro di sé una scia appunto con la forma di cerchio bene in questo caso direi anche di agire su size over life in modo che la dimensione delle particelle cambi nel tempo e precisamente dal preset userei come spesso ci capita il secondo preset questo a scendere in modo che le particelle nascono grandi e poi col tempo vedete che si assottigliano e quindi la scia generale diventa sempre più sottile bene poi direi anche di abbassare un poco l'opacità generale in modo che si vedano le particelle semi trasparenti quindi in opacity scenderei abbondantemente intorno magari ecco ai 30 per cento e anche per l'opacità direi di variarla un po nel tempo quindi in opacity over life in questo caso però userei il terzo preset questo in modo che le particelle nascano trasparenti si accendono rapidamente poi lentamente di nuovo si spengono perfetto e ora pensiamo un po al colore quindi scendiamo nella zona dei colori chiaramente siccome abbiamo scelto l'opzione sprite fill possiamo impostare il colore come vogliamo noi per esempio potrebbero essere rosse ma sicuramente sarebbe più interessante variare i colori durante l'animazione quindi in set color anziché add star potremmo usare l'opzione over life che fa sì che le particelle cambino il colore durante la loro vita e questi colori li possiamo gestire nella sezione color over life in questo caso le particelle cambiano cinque volte il colore durante la loro vita da rosso fino a blu oppure visto che stiamo usando delle luci abbiamo un'altra opzione che è from light emitter cioè le particelle si colorano con il colore della luce proviamo le particelle tornano di nuovo bianche perché il colore della luce come si vede qua nelle opzioni della luce è appunto bianco però noi possiamo animarlo come vogliamo per esempio al tempo zero apriamo la palette del colore della luce lo impostiamo per esempio su rosso e diamo l'ok accendiamo l'orologio a fianco al parametro color poi avanziamo fino a quattro secondi cioè il momento in cui la luce è arrivata fino in fondo in questo momento alle particelle assegniamo un altro colore per esempio gialle quindi le particelle durante la loro vita nascono di colori che vanno dal rosso al giallo un'altra cosa sulla quale possiamo intervenire è il metodo di fusione tra le particelle visto che sono semi trasparenti quindi se andiamo in blend mode subito dopo i colori possiamo scegliere ad esempio l'opzione add cosicché dove si sovrappongono fra di loro le particelle sono un po' più accese questo si nota bene qui durante le curve e a proposito di curve se andiamo a guardare più attentamente da vicino possiamo notare che lungo le curve più strette come in questo caso qua le particelle non sono perfettamente distribuite lungo il tracciato la curva qui infatti come vedete è un po' spigolosa non è perfettamente rotonda ecco per migliorare queste eventuali imperfezioni basta andare nella sezione emitter e al parametro position subframe impostare una delle altre voci disponibili quindi anziché linear possiamo direttamente usare la migliore opzione che è exact proviamola come vedete immediatamente la scia qui ha esattamente la curvatura del tracciato di movimento della luce benissimo e per finire voglio solo far notare una cosa che è possibile emettere particelle da più luci contemporaneamente se si vuole e per provarlo in questo caso possiamo ad esempio duplicare la luce che già abbiamo quindi la selezioniamo ctrl d e alla seconda luce facciamo fare un percorso diverso magari il punto di partenza lo spostiamo in questa zona qui più in alto il punto intermedio magari dalla parte opposta qui a sinistra e il punto finale qua giù in basso magari come prima al punto intermedio modifichiamo le maniglie di besier in modo appunto che il tracciato di movimento sia un po più ampio e magari anche il punto di arrivo e il punto di partenza e già che ci siamo magari gli cambiamo anche i due colori per esempio all'inizio magari anziché rossa la luce la facciamo azzurra e a 4 secondi qui la facciamo anziché gialla viola o rosa perfetto e come tocco finale prima della preview potremmo anche aggiungere un effetto di bagliore per rendere un po più intense e luminose le scie quindi selezioniamo le particelle andiamo nel menu effetti e nella sezione stylize aggiungiamo l'effetto glow che abbiamo anche già usato in altri esercizi quindi lo applichiamo e essenzialmente agiamo sui primi due parametri possiamo aggiustare un po il threshold magari aumentandolo leggermente e soprattutto aumentiamo il radius il raggio del bagliore in modo che si sparpagli bene intorno alla scia e come vedete adesso i colori sono più brillanti e accesi e risaltano molto meglio benissimo perfetto e ora la preview finale ottimo e con questo la lezione di oggi finisce qua e quindi ci vediamo alla prossima ciao